Amici di Quarta Parete, buongiorno, mi trovo insieme ad Angelica Pifano, buonasera Angelica, attrice giovane di Sapri, mi ha detto, che esordirà Deralvi all'Annuale Saison al Teatro di Vigilise con uno spettacolo che si chiama Mamma son tanto felice. Perché? Ecco, perché? Allora, Mamma son tanto felice perché, che in realtà non so se avete visto la locandina, ha una fotografia abbastanza, insomma, differente rispetto al titolo. Perché? Perché, insomma, secondo me è quello che attira maggiormente non soltanto il titolo in contrapposizione all'immagine, che poi lo studio sull'immagine, vabbè, qui apriamo un altro capitolo. Un altro capitolo, ma perché effettivamente si parla di un conflitto tra una madre e una figlia, una madre di 80 anni e una figlia di 50 anni. Sono tre generazioni. Tre generazioni, perché poi ci sarà anche una bambina, la nipote di 8 anni. Quindi la cosa curiosa poi di questo testo, che dopo che è stato scritto, sono uscite tante cose inaspettate. Perdonami, diciamo una cosa, che l'hai scritto tu il testo, eh? Sì, l'ho scritto io. Quindi lei è autrice e interprete. Sì, ed è partito come uno studio di 10 minuti per un altro spettacolo, come tutto al femminile, in cui appunto si era deciso di parlare di piccole storie di vita quotidiana. Ho visto che funzionava, quindi ho detto, beh, è comprensibile anche il dialetto, era comprensibile in Lombardia e in Friuli, immagino che a Roma non sarà un problema. E quindi si, appunto, si apre con queste tre generazioni di donne, passato la nonna, presente la vita di donna in carriera di Delfina, e poi c'è lì, c'è questo futuro imprevedibile, che tutto si immagina, insomma ci si può aspettare di tutto. Però fondamentalmente ci si sofferma su una, diciamo, su un'idea, no? Cioè, come di cominciare la vita a 50 anni, tu ti sei soffermata su questo aspetto, vero? Sì, mi sono fermata su questo aspetto perché penso che sia l'obiettivo e l'idea di tutto, cioè, verso cui punta poi tutta l'opera, il monologo. Non mi va di svelare tanto, perché poi è un po' il cuore del monologo. Però molti 50 anni potrebbero rispecchiarsi in quello che tu puoi raccontare. Sì, molti 50 anni, ma è la cosa più curiosa, che essendo rappresentata comunque una famiglia, perché dopo un po' arriva il mondo, una famiglia matriarcale, diciamolo. Sì, è una famiglia matriarcale perché è tutto concentrato su queste tre donne, che sono appunto le prime tre figure che compaiono, e, insomma, intorno al loro mondo, al loro sapere, alle loro necessità, ai loro capricci, soprattutto, girano le storie di tutti gli altri familiari che interpreto, e niente, si parla di una domenica a pranzo, tipica come tradizione del sud Italia, e lì iniziano a nascere i primi problemi, quando ci si scontra in realtà con cose minime, ma che comunque creano un caos incredibile. Degli attriti. Degli attriti incredibili. Infatti, possiamo dire che forse non c'è un evento principale. Sì, un evento scatenante. Un evento scatenante, ma si parla della normalità di questi rapporti. Per quanto riguarda, cioè, il mio punto di vista, poi, è quanto è strano che si diano per scontato certe relazioni o certi conflitti, quanto possono risultare banali e normali. Il fatto che ce la si prende alla fine con la bambina piccola, quando in realtà non ha fatto niente, semplicemente per sfogare la propria rabbia. E quindi, forse, è un po' il mio punto di vista da nipote di una grande famiglia che si è trasferito, poi, nel punto di vista di Delfina e di Alice. E questo. In realtà, perdonami, queste dinamiche familiari, tu hai naturalmente preso esempio questa situazione del sud, però credo che sia simile a tante altre famiglie. Tante altre famiglie. Infatti, questo credo che sia la cosa... È uno spaccato. Sì, è uno spaccato di vita quotidiana, che però è riconoscibile in molte famiglie anche del nord Italia, del, insomma, si può vedere questo nucleo familiare in altro microcosmo. C'è il microcosmo, esatto. Esatto. E questa è una cosa che mi interessa e penso che sia anche quello che un po' debba fare il teatro. Assolutamente. Nel senso, non vengo qui per raccontare i fatti miei. No, 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 ma raccontare delle storie, delle storie di vita. Esatto, sì. Infatti dovevo trovare il motivo per cui questa storia, insomma, valeva la pena di essere portata a teatro e penso che abbia un buon motivo, i suoi buoni motivi. Volevo dire che Angelica è una ragazza con questi occhi brillanti, che, insomma, aimarano energia. Per la sua giovane età è una ragazza molto determinata, molto convinta e oltretutto ha il pregio di inaugurare questa stagione. È la tua prima, diciamo, grande occasione, no? Di inaugurare la stagione di un teatro come lì Velise. Sì, mi sono innamorata di questo spazio quando sono venuta, anche perché prediligevo uno spazio contenuto, intimo. Certo. Non che gli altri non vadano bene, ma forse c'è qualcosa che si può disperdere. Esatto. E invece il contatto con il pubblico è sempre qualcosa che... Sì, più calore, sicuramente. Sì, sì, che funziona. Poi nel momento in cui c'è una risposta del pubblico concreta e si può trovare un gancio tra il palcoscenico e la platea, poi lì diventa tutto magico. Ma sicuramente è il mio debutto, è la prima volta che faccio questo. Quindi è il primo gradino questo, il primo gradino e noi ti auguriamo di fare tutta la scala, naturalmente. E io mi auguro che ci venga sempre più gente, perché questo... Allora concludendo, oggi e domani, ore 21, teatro di Velise, Angelica Bifano, con Mamma sono tanto felice perché... Cosa direi? Angelica in bocca al lupo? Grazie mille, grazie mille. E speriamo di vederti altre volte qui a Roma. Sì, dai, magari ci teniamo aggiornati in modo tale che possiamo seguirci. Assolutamente, ti seguirò con grande attenzione. Grazie mille. Buone cose, Angelica. Grazie mille. Grazie a tutti. Ci vediamo a teatro.